Parliamo adesso dello sport e parliamo di calcio. Domani sera alle 20.45 la Coppa Italia, il Pescara sarà in campo all'Adriatico Cornacchia, ospiterà l'Olbia, una gara a eliminazione diretta. In porta debutterà il 19enne Alessandro Sorrentino, il migliore nel test di sabato scorso con Napoli a Castel di Sangro. Di Gennaro, che è arrivato da sette giorni, non è ancora al top. Sorrentino, lo ricordiamo, è nato a Guardia Grele come Morgan De Santis. Intanto per il calcio mercato nel Pescara è possibile il ritorno dalla Juve di Luca Clemenza, un'operazione legata però all'eventuale partenza di Cristian Aggalano. 24 anni compiuti da poco, con la maglia del Delfino, Clemenza ha collezionato 14 presenze da febbraio e agosto 2020. Un gol capolavoro learizzato nell'infausta trasferta di Pisa del 26 giugno 2020. Nell'ultima stagione ha giocato in Svizzera con 14 presenze e un gol, ma ha saltato 13 partite per infortunio. Il fantasista Mancino è assistito da Tullio Tinti. Clemenza è legato alla Juventus fino a giugno 2022, però tornerebbe volentieri a Pescara. L'altro obiettivo invece è Giuseppe Borello, classe 99, ex Provercelli e Cesena, di proprietà del Crotone, il cui direttore sportivo Ursino, sul nostro sito internet, ha dichiarato per ora Borello non si muove.